Un cacciatore sancataldese di 64 anni dovrà versare un risarcimento di 1.500 euro al WWF per avere utilizzato un fuggile modificato nel corso di una battuta di caccia. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta nel corso del processo in cui il cacciatore, accusato di esercizio della caccia con mezzi vietati, ha beneficiato della messa alla prova, cioè la sospensione del processo in cambio di un programma di lavori di utilità sociale, istituto previsto nel caso dei reati più lievi. L'uomo nel 2018 aveva cacciato dopo avere modificato il fucile smontando il riduttore, un espediente utilizzato dai cacciatori per sparare più dei tre colpi consentiti, ottenendo una sorta di effetto raffica. A segnalare la situazione erano state le guardie del WWF nel corso di un controllo e nel processo l'associazione ambientalista si è costituita parte civile con l'avvocato Salvatore Patry. Nella scorsa stagione di caccia 2021-2022 le guardie del WWF, che svolgono i servizi di controllo sull'attività venatoria unitamente ai carabinieri, hanno denunciato nove cacciatori tra Caltanissette e Gela per diversi casi e non sono mancate nemmeno le sospensioni o le revoche del porto d'armi da parte della Questura.